E' il momento al punteggio della tedesca Elisabeth Seitz. La Tang non dovrebbe prendere più di 13.100 per far pensare la Melnikova di superarla. Certo che povera Tang è proprio... Abbiamo già fatto i calcoli al dettaglio. Vediamo la Seitz che occupava l'ottava posizione nella precedente rotazione in classifica generale. Molto bello il suo salto e vedremo le esecuzioni.